Buonasera a tutti ed un grazie per la vostra partecipazione da parte di tutto il nostro Consiglio Direttivo. Ci approviamo ad aprire ufficialmente il 51esimo convegno nazionale dell'Associazione Italiana Amici del Presepio. La situazione d'emergenza sanitaria che stiamo ancora oggi purtroppo vivendo impone quest'anno un incontro che avrà luogo in forma virtuale, ma che manterrà comunque i consueti appuntamenti dei nostri convegni. Il Consiglio Direttivo ha dovuto prendere suo malgrado questa decisione che almeno ci consente di vivere comunque insieme i giorni nei quali era previsto il nostro incontro. Ad iniziare dal lunedì, appena passato, abbiamo già potuto seguire una programmazione di eventi che hanno rievocato i convegni passati con le immagini dell'epoca e le testimonianze di coloro che vi hanno partecipato. Da oggi e fino a domenica prossima staremo qui individualmente insieme, come siamo normalmente abituati nei nostri convegni. A dare inizio a questa serata sarà il nostro Presidente Alberto Finizio. Seguirà il video Passeggiate Reatine, dove l'assessore alla cultura del Comune di Rieti, Professor Gianfranco Formighetti, particolarmente presente alle attività preprepistiche e a tutte le manifestazioni corregate alla via del primo presepio, e la professoressa Iliana Tozzi, storica locale, ci guidano in un tour alla scoperta della storia della città e dei suoi siti più significativi. Sarà quindi la volta di una selezione in anteprima delle opere che si potranno ammirare nelle esposizioni di arte presepiale previste per il convegno del prossimo anno dal titolo La Mostra che verrà. Buona visione. Arrivederci e grazie.